Non potevamo non cominciare questi giorni così intensi ospitando il nostro carissimo pastore Padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo. Bentrovato Padre Franco e grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie dell'invito e grazie a tutti e a chi ci sta ascoltando. Allora, si preannunciano giorni importanti. Padre Franco, la festa di Padre Pio arriva dopo un'estate difficile. È inutile nascondercelo perché il nostro territorio, ma non solo, è stato segnato da tanti episodi di cronaca, di criminalità e non solo. Tante brutte storie, potremmo definirle così, che in un modo o nell'altro sono entrate nelle case degli italiani e degli abitanti del nostro territorio. Io voglio citare un breve passaggio del suo messaggio pronunciato alla fine della processione della Madonna di Siponto a Manfredonia il 31 agosto scorso. La festa è buona e vera, cito testualmente, si muove le coscienze e stimola progetti e decisioni che migliorano la città, la chiesa, il popolo ed il territorio. Allora, vorrei partire, Padre Franco, proprio da questa espressione per chiederle la festa di Padre Pio, la chiave di lettura. Rileggiamola alla luce di questa affermazione che lei ha pronunciato in occasione di quella festa. La festa di Padre Pio arriva al termine dell'estate, il 23 di settembre, esattamente l'inizio ufficiale dell'autunno, della nuova stagione. Porta con sé, credo, quanto abbiamo vissuto e deve mettere prospettive di novità secondo il Vangelo. La festa non è qualcosa di fine a se stesso o di richiamo semplicemente ad una tradizione o ad un passato che vogliamo tenere vivo nel ricordo. La festa è qualcosa che ci deve far entrare nell'oggi con responsabilità alla luce del Vangelo. La festa è un'invenzione di Dio, la festa è il settimo giorno della creazione, quindi è il significato pieno della creazione. E ogni festa di Santi o di tradizioni particolari sui nostri territori, nelle nostre chiese locali, deve avere questa finalità di dire che la pienezza della creazione è il significato vero e bello di quanto Dio ha fatto e sta facendo per noi, rendendoci tra l'altro suoi collaboratori e portatori di un messaggio di vita e di responsabilità. Quindi la festa, oltre a farci stare contenti, ci deve rendere più responsabili. Ecco allora il richiamo alla coscienza e all'impegno su tutto il raggio della nostra vita, quindi dall'essere persone di chiesa, da dove partiamo, che è ciò che ci motiva e ci spinge, fino ad essere abitanti di una città, di un popolo particolare, di un territorio che ci ha affidato. A proposito, Padre Franco, lei ha parlato in diversi documenti magisteriali, citiamo anche l'ultima lettera pastorale, del concetto di trasfigurazione, l'applicata al territorio, alle coscienze, alla società, all'ambiente, alla cultura. Sono concetti a cui lei ha fatto riferimento relativamente alla nostra diocesi, ma che poi in qualche modo possiamo applicare anche a tutto il territorio nazionale. Per cui le chiedo, in che maniera l'insegnamento di Padre Pio può aiutarci a trasfigurare la nostra vita, la nostra realtà? Allora, il verbo trasfigurare, non l'ho scelto a caso, fa riferimento al convegno ecclesiale nazionale di Firenze del 2015, dove la Chiesa italiana indicò alcuni verbi significativi per il cammino decennale, che si compie poi per noi con la conclusione del periodo sinodale. E l'ultimo di questi verbi era il verbo trasfigurare, che ovviamente ha come riferimento il messaggio evangelico e il fatto della trasfigurazione del Signore. Nel testo del convegno di Firenze era visto sotto una prospettiva, direi, liturgica, ossia era vedere le nostre liturgie, la nostra vita di celebrazione nella Chiesa come momento in cui trasfiguriamo la nostra vita cristiana, la nostra testimonianza, il nostro annuncio, il nostro modo d'essere, facciamo vedere qual è la forma vera della Chiesa. Però, ripeto, aveva una concezione essenzialmente di celebrazione liturgica. Io ho tentato di dargli una lettura a mio giudizio più completa, mi permetto, e soprattutto credo più coerente con lo stesso testo biblico, perché è la trasformazione della figura nella forma vera, è la trasfigurazione di quello che è il nostro essere in quello che è il progetto vero di Dio, e l'anticipazione o la preparazione del futuro secondo Dio. Ecco allora che l'ho allargato in queste cinque dimensioni, compreso quella che è la dimensione culturale, la dimensione territoriale, la dimensione di popolo, la dimensione di partecipazione alla vita della città e ovviamente alla vita della Chiesa, insomma, in questo senso. Come può aiutare la persona e la figura di Padre Pio in questo orientamento? Io direi molto semplicemente, Padre Pio è una persona trasfigurata, è una persona, forse non l'abbiamo mai detto, ma viene normalmente paragonato ad altre immagini della Bibbia, all'immagine del Samaritano o del Cireneo che porta la croce per l'essere uno stigmatizzato, ma io credo che proprio per l'essere uno stigmatizzato, per rispondere alla sua domanda, dimostra l'essere una persona trasfigurata, ha assunto veramente in pienezza la figura di Gesù, il crocifisso risorto, perché le piaghe di Padre Pio, come quelle di San Francesco, dei portatori delle stigmate, sono le piaghe non solo della croce, ma del crocifisso risorto, quindi sono le piaghe che dicono la prospettiva della risurrezione, che si fa carico di tutto il peso della vita, compreso il dolore e la morte, ma le supera. Ecco, rimanendo sempre in questo concetto di trasfigurazione, di trasformazione anche nel mondo della cultura, in un'epoca in cui la comunicazione digitale è ormai all'avanguardia, domina un po' tutte le nostre vite, quante importanza in questo cammino di ognuno della comunità, di fedeli, della Chiesa, hanno i social? I social hanno... io non sono molto social, però un po' li uso, perché ormai nessuno ne può fare a meno, ne può fare a meno. E i social hanno in qualche modo cambiato, non dico trasfigurato, che è un'altra cosa, hanno modificato le nostre abitudini e probabilmente stanno anche modificando il nostro stile di pensare, di ragionare, di sentire, di rapportarci, dove vediamo, a mio giudizio, gli aspetti più negativi è nelle relazioni, che si fanno virtuali e non reali, credono di avvicinare, in realtà separano, isolandoci nell'individualismo. Però non ne possiamo fare a meno, e la cultura di oggi, ed in questa cultura, noi ci dobbiamo essere, ci dobbiamo entrare, non dobbiamo demonizzare niente, ma cercare di mettere dentro il Vangelo e mettere dentro la testimonianza. Sono gli strumenti a nostra disposizione, e lo strumento può essere usato bene, o può essere usato male. Tocco a noi dare l'utilizzo corretto, e ripeto, l'utilizzo secondo il Vangelo. In quel caso diventano anche strumenti di trasfigurazione, di avvicinamento, di comunicazione, di annuncio. E non è un caso, Padre Franco, che anche Papa Francesco, negli ultimi messaggi per le giornate mondiali delle comunicazioni sociali, ma già prima Papa Benedetto, si siano voluti concentrare, proprio in maniera forte, su quella che è l'ecologia di questi ecosistemi digitali che ormai fanno parte della nostra vita. Noi però adesso ci dobbiamo fermare qualche istante per la pubblicità. Padre Franco resta con noi, e poi continuiamo questa interessante chiacchierata all'inizio di questo periodo così importante che ci accompagnerà fino alla festa di Padre Pio. Restate con noi. Eccoci ritornati in diretta, mentre ringrazio ancora Padre Franco Moscone, il nostro arcivesco, per la sua presenza. E voglio approfittare della presenza di Maria Pia, mentre stiamo vedendo questa immagine che giunge in diretta dal Sagrato della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, che ci restituisce il ripopolarsi, ecco, alle prime ore del mattino, nei luoghi di San Pio. Dicevo, ne approfitto di Maria Pia, perché voleva fare una domanda all'arcivesco. Sì, io parto naturalmente dal mio compito che sono gli aggiornamenti. Tra l'altro Don Maurizio Patriciello è qui a San Giovanni Rotondo stamattina. Speravo anche di poterlo incontrare, ma come si dice, Ubi Maier. E invece c'è un aggiornamento che riguarda la sua Caivano, una nuova operazione ad alto impatto con 400 agenti in azione, e quindi è già la seconda in pochi giorni, con elicotteri blindati, e quant'altro dall'alba, all'interno del Parco Verde, perché ci sono state intimidazioni anche dopo la famosa visita del Premier e di vari ministri. Adesso, ringraziando il nostro carissimo padre Franco, che torno a salutare anche qui a favore di telecamera, volevo chiedergli, visto che opera appunto in una zona che non è paragonabile alle tragedie di queste settimane a Caivano, però è sicuramente una zona in cui la gente ha voglia di quella svolta securitaria, cioè ha voglia magari di vedere di più l'esercito, le forze dell'ordine. Lei come la pensa in proposito? Penso che la problematica sia plurale e poliedrica. La presenza dello Stato ci deve essere ovunque, perché se non c'è la presenza dello Stato viene sostituita da altre presenze, come sono quelle mafiose della criminalità organizzata, di altre forme di potere. Quindi lo Stato deve farsi vedere e deve presidiare il territorio con gli strumenti che ha, quindi con le forze dell'ordine, con la polizia e in alcune zone, in alcuni momenti, forse anche con l'esercito. Però questo non è l'unico strumento, è uno strumento ed è uno strumento che può dare anche sicurezza dal punto di vista psicologico alla popolazione. Insieme a questo vanno attivate tantissimi altri strumenti, in primis l'educazione, vanno organizzati luoghi dove ci si ritrova e dove la gioventù possa trovarsi in modo sano e crescere in modo sano. Va attivata l'interrelazione tra le generazioni, va ridato ad alcune figure educative, penso soprattutto agli insegnanti e partire dalla scuola materna all'università, il ruolo che veramente hanno di dignità e di intensità. È un ruolo delicatissimo ed un ruolo fondamentale che è stato svalutato. Va riattivato un collegamento ed un'alleanza, a mio giudizio, parlo di scuola, quindi tra la scuola e le famiglie, un'alleanza che negli ultimi anni, io sono uscito dalla scuola nel 2005, ma già lo verificavo, si stava frantumando, si stava dividendo. Se non c'è questa alleanza non formeremo mai nessuno, perché le generazioni non crescono in modo isolato. il bene non ha un solo orecchio di ascolto e una sola bocca di comunicazione. È plurale, quindi se non c'è questa alleanza, la sola presenza delle forze dell'ordine farà quel che può, ma farà molto poco, perché non entrerà nel cuore. Troppo tempo ai colleghi e grazie davvero per la sintesi e soprattutto la lezione che aiuta molto chi sta operando a scuola, chi è tornato da poco. E non a caso Padre Franco nel suo messaggio di augurio per l'anno scolastico ha voluto parlare proprio di abitazione della scuola. Ecco, abitare vuol dire proprio questo. Fare casa, insomma. La scuola e la famiglia sono una casa comune, sono una parrocchia, parrocchia vuol dire casa tra case, sono più case che formano il villaggio, ma in ognuna si deve sentire il medesimo affetto e la medesima responsabilità. direi il medesimo linguaggio di futuro, di speranza e di formazione. Non possono essere separate e slegarsi. Quando queste realtà educative si slegano non c'è più educazione e non c'è più prospettiva di futuro in modo sano. Il cuore di pastore di Padre Franco batte anche per quella che Padre Pio definiva la cattedrale del creato, no? Che è il nostro gargano, una meraviglia, anche i numeri delle presenze estive lo hanno confermato. Tante persone scelgono il nostro territorio per passare un periodo di svago, di relax dopo un anno di lavoro. Però questo territorio è violentato, Padre Franco, ecco mi passi il termine, da quella presenza che si sostituisce a quella dello Stato che attraverso anche il fuoco. questo elemento terribile ma a noi così utile per certi versi ecco distrugge quello che il Signore ha creato per noi. Noi siamo anche in cammino verso un giubileo importante, sono vari giubilei francescani nel corso di questi anni noi ne parleremo poi tra l'altro lo voglio annunciare lunedì con Monsignor Felicia Crocca che ci aiuterà l'Arcivescovo di Benevento che ci aiuterà a capire, a contestualizzare ancora meglio il percorso di questi centenari e San Francesco ha fatto dell'ecologia anche una delle sue ragioni di vita. San Francesco non ha inventato il termine ecologia un termine che mi pare se non sbaglio appare la prima volta nel 1962 però ha vissuto ha vissuto l'identificazione con tutto il creato da uomo profondamente di Dio da interprete in qualche modo nella carne della figura di Cristo non poteva che sentire la fratellanza con tutte le creature e quell'unità che il cantico delle creature ha portato e ha indicato al mondo intero non solo alla letteratura italiana visto che uno dei primi testi della nostra lingua è una delle poesie più alte insomma ed è universale ed è universale identificarsi con Cristo accoglierne il messaggio sentire Cristo nella carne non può che farci sentire la fraternità con tutto il creato che è l'ambiente il dono di Dio che ci è stato consegnato senza il quale la nostra vita neppure esiste perché è il nostro teatro di azione e nello stesso tempo è il nostro luogo di responsabilità e di creatività ecco il creato la chiesa la scuola sono tutte case ecco abitazioni e cito testualmente chiesa che se nel Gargano sia abitazione di Dio dalla porta aperta che è il titolo della nota pastorale che verrà diffusa il prossimo 6 ottobre nel corso dell'Assemblea Diocesana questo tema della porta aperta ci conduce inequivocabilmente al giubileo che ci apprestiamo a vivere come ha detto poc'anzi Leonardo nel 2025 in comunione con tutta la chiesa universale ma ci richiama anche l'impegno del sinodo che sta procedendo in maniera piuttosto spedita per cui come si pone la chiesa del Gargano rispetto a questi appuntamenti? la chiesa del Gargano parlo di quella che mi è stata affidata in modo in qualche come dire un po' in anticipo eravamo partiti con un atteggiamento di ascolto e di sinodalità la lettera pastorale che lei ha citato all'inizio con Cristo trasfigurati che esce nel 2021 a settembre 2021 era già frutto di un tentativo di ascolto fatto nelle varie vicarie quindi in qualche modo avevamo già attivato quello che sarà e diventerà poi lo strumento principe che ci ha indicato la chiesa universale e la chiesa italiana in particolare per il cammino sinodale è vero che non l'ho inventato io non l'abbiamo inventato noi perché era già in fase di attuazione il cammino del sinodo universale che avrà la prima convention ufficiale dei vescovi e dei convocati dal Papa tra un mese nel prossimo mese di ottobre quindi l'ascolto era già sottolineato noi eravamo già partiti facendo lo nostro ascoltando e quindi quella lettera porta nella parte centrale e poi nella terza parte come indicazioni di strumenti e di piano per un quinquennio pastorale proprio quanto era nato da quel primo ascolto che poi abbiamo sviluppato e le due note pastorali quella dell'anno scorso che ha messo come tema ascolto ha portato avanti e quella di quest'anno vorrebbe ancora insistere e che ho intitolato come chiesa che nel Gargano sia abitazione di Dio dalla porta aperta accogliendo due due icone due testi biblici e non uno solo quello dell'edificio dalla lettera di Paolo agli Efesini e quella di Cristo che si definisce porta nel Vangelo di Giovanni allora padre Franco visto che siamo in conclusione una battuta non la possiamo non fare relativamente al convegno nazionale dei gruppi di preghiera che comincerà domani un altro impegno importante ricordiamolo padre Franco oltre ad essere arcivescovo della nostra diocesi anche direttore generale dell'associazione internazionale gruppi di preghiera di padre Pio abbiamo detto che ci sarà la presenza del cardinale Zuppi ritardi di aerei permettendo speriamo di no perché ovviamente il cardinale come diceva prima Maria Pia è dalla Cina ecco quindi non esattamente a Foggia o a Manfredonia possiamo dire che da Kiev da Mosca esatto da Washington è tornato sempre puntuale esageriamo e io io credo che padre Pio ci metta lo zampino perché si chiude un cerchio se vogliamo non voglia padre Pio magari aiutarci in qualche maniera tra le intenzioni che padre Pio mette per la nascita e lo sviluppo dei gruppi di preghiera c'è proprio quello dell'impegno per la pace e la preghiera per la pace quindi la presenza del cardinale Zuppi a conclusione del nostro convegno nazionale sottolinea quello che è uno degli aspetti originali dei gruppi di preghiera e delle motivazioni per cui esistono quindi è nostro dovere accompagnare il cammino di pace che la Chiesa insomma vuole offrire come mediazione in questo momento e che ha nel cardinal Matteo Zuppi il punto di riferimento per volontà del Papa allora padre Franco abbiamo messo tanta carne a cuocere come si suol dire ovviamente il tempo è sempre tirano in televisione avremmo necessità di molto più tempo per sviluppare questi argomenti così belli così interessanti che ci toccano da vicino io la ringrazio di cuore per essere stato con noi torni quando vuole buona novena buona festa di padre Pio buon convegno e che sia veramente occasione per radicarci nel nostro essere e nelle nostre responsabilità come devoti di padre Pio figli spirituali di padre Pio oggi grazie grazie padre Franco assolutamente ricordiamo anche che padre Pio è un patrono particolare di questa arcidiocesi dunque insomma l'affetto è il legame forte che c'è tra appunto la comunità dei frati e anche della protezione civile tra l'altro vero quindi in qualche modo collegato con l'aspetto dell'ambiente e la custodia insomma del creato e voglio anche aggiungerci dei donatori di sangue che non è un particolare da sottovalutare padre Franco perché quest'estate abbiamo assistito davvero a tanti appelli a chiamata ovviamente alle donazioni perché si sa gli ospedali in estate soffrono la carenza di sangue e diamocomponenti e dunque è importante anche questo aspetto qua padre Pio è un santo sociale ora stiamo riprendendo l'intervista ha molto da proteggere esatto da guidarci è un santo che viene presentato normalmente semplicemente dal punto di vista della spiritualità in realtà è un santo sociale perché non c'è spirito che non si incarni nella realtà e lo spirito santo si è incarnato nella sua carne e fa della sua carne un esempio di vera socialità e impegno civile nel nome del Vangelo nel nome di Cristo e allora abbiamo tanto da fare nel nome di padre Pio auguri a tutti noi allora padre Franco grazie per essere stato con noi noi ora ci fermiamo per la pubblicità qualche minuto di pausa e poi ancora insieme grazie a tutti grazie a tutti